Errare umano, perseverare diabolico. Sembra davvero azzeccata questa massima popolare come titolo della polemica che Pasqualino Piunti di AN ha sollevato, tornando a parlare dell'asilo nido di Portodascoli. Una questione in piedi da tempo, dato che l'apertura dell'istituto era prevista per il 10 novembre, poi slittata ad un mese dopo, e che invece vedrà luce solo al 2008 avanzato. Il sindaco aveva mandato una lettera personale alle famiglie e lista d'attesa, ha ricordato Piunti, condizionando ogni loro scelta. Questo asilo, promesso e ripromesso, non aprirà i battenti nemmeno a dicembre. Come partirà, visto che ci sono state tante prescrizioni per quanto riguarda e il progetto pedagogico e la struttura, quindi un'amministrazione che si è permessa di disturbare le famiglie e condizionarle al punto tale di dover alcune famiglie aver avuto la necessità di ricorrere a babysitter, impegnandosi per una struttura che oggi è una struttura fantasma. La commissione di valutazione delle proposte di convenzione ha chiesto chiaramente sul progetto presentato unitariamente da tre cooperative del territorio. Questo infatti non era in linea con le leggi regionali, presentando irregolarità anche a livello strutturale. È stato infatti approvato dalla commissione con una sufficienza stentata. Quali garanzie si danno, chiede Piunti, alle famiglie che scriveranno i loro figli a questo asilo? Non è tutto. Piunti riporta una dichiarazione di Lucia Di Stefano, responsabile comunale dei nidi d'infanzia, che sostiene il grande ritardo dell'amministrazione e che nella struttura ci siano ancora lavori in corso. Un'altra debacle, insomma, dice Piunti, per un settore delicato della società che in un anno e mezzo ha cambiato ben quattro dirigenti.